Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake con uova e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, lievito istantaneo per torte salate, olio di semi di girasole, latte, uova, pecorino grattugiato, parmigiano grattugiato, uova sode, piselli lessati, sale, pepe, noce moscata, basilico e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova. e il sale. Ed azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4. Aggiungere l'olio. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 2. Aggiungere la farina il basilico il prezzemolo il parmigiano il pecorino il latte il lievito il pepe e la noce moscata ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. aggiungere i piselli ed azionare il bimbi per 30 secondi anti-orario velocità 2 l'impasto è pronto. trasferire metà impasto in uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno bagnata e strizzata da 30 x 11 cm mettere le uova completare con il resto dell'impasto cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 50-55 minuti circa. Il plum cake è cotto lasciare intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Plum cake con uova e piselli grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!